Dopo poco più di un mese riapre al traffico la strada provinciale 350 che collega l'aste basse a Folgaria, chiusa a causa di una frana che ha diverse centinaia di metri cubi di materiale roccioso. La via di collegamento tra Veneto e Trentino è stata messa in sicurezza e riaperta regolarmente grazie all'intervento della provincia autonoma di Trento. Qui occorre fare un ringraziamento a tutte le strutture provinciali, al rapporto con le amministrazioni comunali, con quelle venete alle imprese private che hanno lavorato, perché non era scontato riuscire ad aprire in così poco tempo, oltretutto si pensava di riuscire a farlo senza unico alternato, invece si è fatto in modo completo. È importante perché la stagione invernale dell'Alto Piano così può partire e non ci sono ripercussioni negative. Quindi la soddisfazione è tanta, si è lavorato insieme tra parte pubblica e parte privata, e credo che possiamo essere orgogliosi del lavoro che in questo caso il sistema Trentino è riuscito a mettere in campo. Il 21 novembre erano stati fatti esplodere in maniera controllata circa 2000 metri cubi di roccia che incombevano sulla strada. La sfida principale era quella contro il tempo, non si sapeva infatti come sarebbe evoluta la situazione della sede stradale, già devastata dalla frana iniziale dopo il brillamento del diedro roccioso del conseguente ulteriore franamento di massi e materiale detritico. In pochi giorni è stata installata una scogliera di quasi 100 metri e sono state posizionate 150 metri di barriere e paramassi provvisorie. Prima cosa è sicuramente un doveroso sentito ringraziamento sia alla parte amministrativa della provincia di Trenta, quindi al presidente Fugatti, ma anche a tutti i lavoratori che si sono spesi tantissimo per riuscire a realizzare questo che sembrava un'impresa impossibile. E quindi questo ringraziamento va fatto a nome mio, da me personalmente, per tutte le amministrazioni del Vicentino, per tutti quei lavoratori che quotidianamente riescono ad andare a lavorare dal Vicentino al Trentino, creando una sorta di unione tra queste due realtà territoriali, che penso sia la cosa più bella riuscire a ristabilire questa unità territoriale. L'occasione poi è anche propizia per quella che è una stagione invernale che è la partenza e quindi speriamo tutto questo possa portare a una bella stagione invernale e a una ripresa di quella che è la collaborazione lavorativa tra i due territori. Ripristinata la strada, i lavori proseguiranno ancora per qualche mese. Nei prossimi giorni saranno avviate le attività per il monitoraggio delle barriere paramassi definitive e sarà completata la riprofilatura e la stabilizzazione finale del materiale presente nella parte più alta del versante in prossimità della zona di distacco.